La Calabria, la provincia di Reggio e l'Ocrida in particolare sarà protagonista di un evento importante, l'incontro di metà anno dei Lions. Parliamo di un incontro importante che comporta l'arrivo su questo territorio di persone, soggetti, ma in dire intere famiglie che provengono dall'intera Calabria, dall'intera Basilicata e dall'intera Campania. Lo chiediamo al dottor Giuseppe Ventra, che rappresenta questa circoscrizione. Vogliamo dire che questo incontro, che caratteristiche avrà e quanti saranno i soggetti coinvolti? Buonasera, io esprimo quello che è il concetto organizzativo di questo periodo, di questi due giorni che si terranno qui sulla Locri. Considerando una cosa importante, che questo evento è un evento di tale importanza in quanto raccoglie tutti i soci, che evidentemente è delegato a questo incontro, che è un incontro importantissimo in quanto ci saranno diverse centinaia di amici, di soci che saranno presenti dalla Campania, dalla Basilicata e logicamente anche dalla Calabria, che ospita questo convegno intermedio, evento intermedio di metà anno che porterà qua tutta questa gente. Saranno quanti giorni? Saranno due giorni, saranno il giorno 17 che si terrà il gabinetto distrettuale in presenza del governatore del distretto. Certo, per noi è un evento molto molto importante, anche perché così potremmo far conoscere la vera faccia della Calabria, cioè quella che rappresenta le bellezze che abbiamo sul territorio e quindi speriamo che non solo il 17 ma anche il 18 avremo tanta altra gente che potrà visitare la nostra Calabria. Ecco, la particolarità vogliamo dirla che non è solo il fatto di venire a partecipare all'incontro, ma saranno organizzate delle visite guidate su tutto il territorio, quindi è un modo per promuovere il territorio, per fare turismo e per accogliere anche intere famiglie, perché non verranno solo i rappresentanti, ma portano l'intera famiglia con i figli, le moglie eccetera. Saranno tante famiglie che verranno e che poi seguiranno qui, perché stiamo organizzando con dei tour operatori, organizzeremo degli incontri, non so, su Gerace, sulla villa di Casignana, sul territorio tutto, stilo. Insomma, noi facciamo una considerazione generalizzata su tutta la locura, sperando di ottenere dei buoni risultati e che tanta gente sia presente, perché per noi e per il territorio, come diceva prima lei, è importante.